Ancora in tre a punteggio pieno, la Cremonese partita da Menosechi ha sbancato Piacenza, il Lanciano che doma a tempo scaduto il Barletta, il Pergo Crema che regola il giovane Alto Adige, perde il treno il Trapani travolto dalla Carrarese, si sblocca l'Andria e si rilancia il Siracusa, il tutto a danno delle ambiziose Triestina e Spezia, Latina e Portogruaro infieriscono sul deficitario avvio di Bassano e Feralpi Salò. Nel posticipo il Frosinone, prossimo avversario dei Rossoneri, infligge tre reti al Prato, 3-1 il finale. Sempre più Virtus insomma, con l'amarezza di un punto di penalizzazione che proprio non ci voleva, frutto del rapporto con l'attaccante Morante, più croce che delizia di tre anni tormentati, il Lanciano ci ha rimesso insomma tempo e denaro con la commissione disciplinare che adesso ha fatto scivolare i Rossoneri in seconda posizione per aver pagato in ritardo il giocatore che preferì a suo tempo la tribuna e la Berretti ad altre piazze di categorie, ma in uno stipendio sontuoso. Inoltrato il ricorso si spera in un ripensamento che farà finalmente giustizia. La squadra? Sentite Mammarella. Un gruppo tutto nuovo, allenatore nuovo, però sta andando tutto bene, stiamo lavorando bene, credo che questa sia la strada giusta da seguire. Peccato per il punticino che è stato sottratto. Fa parte delle situazioni del calcio, logicamente sono cose societarie, dispiace perché comunque è un punto sudato, però ci può anche dare forza per riprendercene forse già da domenica prossima qualcuno in più. Attenzione sul percorso, c'è il Frosinone che è una squadra costruita per far bene, benissimo. Sì, ieri ho visto la partita, sicuramente a livello organico il Frosinone è una di quelle che lotterà per un posto nei play-off, però dalla nostra parte abbiamo quelle armi che abbiamo dimostrato domenica, che se le riusciamo a riportare anche a Frosinone sarò sicuro che sarà dura anche per loro. Grazie a tutti.